un fork è una biforcazione della storia transazionale di bitcoin cioè fino a un certo punto c'è questo registro unico delle transazioni che si chiama blockchain che da un certo punto in avanti si duplica si sdoppia è un modo di lanciare un nuovo coin in qualche maniera riconoscendo un'unità del nuovo coin a tutti gli ex a tutti i possessori di bitcoin è chiaramente una mossa furba dal punto di vista distributivo e quindi di marketing perché è una specie di airdrop come si dice di distribuzione di massa per far partire una crypto che di per sé sarebbe piccola insignificante e che invece nascendo per gemmazione dal ramo bitcoin ha in qualche maniera già una diffusione molto ampia di per sé è una possibilità tecnica interessante perché fa parte dell'incensurabilità di bitcoin la possibilità che se lo sviluppo del protocollo bitcoin andasse in una direzione che non piace alla maggioranza di attori economicamente significativi questi possono forcare bitcoin e stare su una mutazione di bitcoin oppure non accettare mutazioni di bitcoin quindi è una possibilità legittima tecnicamente praticabile per ora l'abbiamo vista praticata con variazioni tecniche poco poco significative bitcoin cash è probabilmente il primo fork e quello più motivato nasce per avere una maggiore capacità transazionale di bitcoin ma ad esempio mi trova contrario bitcoin oro digitale non è moneta transazionale non ha bisogno di una maggiore capacità transazionale ha bisogno solo del massimo di sicurezza tutti i fork che sono arrivati dopo bitcoin cash sono di fatto ancora meno significativi ancora meno tecnicamente fondati e sostanzialmente sempre più insignificanti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti